Mi sembra di sognare, mi sembra veramente di sognare, soprattutto perché magari è nei sogni che le cose vanno al di là delle aspettative, no? Perché sono sincero, non mi aspettavo una partita di questo genere. Neanche magari ti sto dire tanto tanto il risultato che dici, oh sai, magari ci può stare, loro ti bombardano per un motivo o per un altro non entra, tu a buco di culo la butti dentro, ci può stare. E invece cazzo te la sei proprio meritata, te la sei proprio meritata, anche perché oltre a ciò che si è visto senza considerare certi episodi, già quelli ti potrebbero far dire cazzo te la sei meritata. Se in più ci vai ad aggiungere un rigore clamoroso non dato, ma ci arriviamo tra poco a Maresca, al Sior Maresca ci arriviamo tra poco. La traversa di Miretti, il gol annullato che anche quello, guarda, ero lì a dire cazzo ma sono proprio curioso di vedere di quanto era fuori gioco. Quando l'han fatto vedere era meglio rimanere col dubbio, però d'altronde o se c'è l'oggettività che mi si garantisce che è stato veramente preso il frame giusto, cosa c'è da dire? Purtroppo quella è anche sfortuna, ma al di là di tutto bravi. Oggi veramente bravi tutti, dal portiere all'allenatore, passando per tutti i giocatori anche bravi tutti. Cazzo ed è qui che mi viene da dire ma allora perché tutte le altre volte no? No, è vero che certo dopo la finale ti fa dare quel qualcosa in più, è logico, è logico. Così come magari, come anche detto, lato Atalanta, sai, un discorso è fare sempre molto bene, raggiungi certi traguardi come può essere la Champions League e quant'altro. Però quando magari c'è quella partita dove la vittoria ti garantisce veramente un qualcosa di tangibile, che il trofeo non è detto che sia sempre la stessa identica cosa, ma oggi secondo me più che questi discorsi, cioè secondo me l'Atalanta ha fatto il suo e che oggi te sei stato proprio bravo. Cioè obiettivamente c'è poco da dire. Quando c'è da criticare si critica, quando c'è da stare ziti ed elogiare tutti quanti si elogiano tutti quanti, perché oggi veramente c'è da elogiare tutti quanti, punto. Una difesa che è ritornata veramente, una difesa allegriana nel senso che non passa nulla. Oggi Danilo che questa stagione ha avuto alti e bassi, forse a tratti più bassi che alti, ha fatto una partita monumentale. Bremer, vabbè, mi sembra anche superfluo star qui a ribadire quelle che sono le prestazioni di Bremer. Gatti, perfetto, ma tutti, obiettivamente tutti, sono stati perfetti. Cambiaso che oggi l'abbiamo rivisto tecnicamente mezzala, però poi spesso e volentieri era a destra e ha messo due palloni meravigliosi, entrambi ad Usamblaovic, entrambi concretizzati, solo che purtroppo c'è quella piccola roba chiamata Var che sai, quando ti può dare una mano per stare dalla parte del sicuro non te la dà mai, tanto che anche qui per ritornare sempre su quel discorso perché è giusto rimarcare anche queste cose, soprattutto quando vinci, che quindi tutto sommato anche sti cazzi, è incredibile come sia anche, no, durato di più il check in occasione del primo gol dove veramente al primo replay posto è buono, c'era Jim City che lo teneva dentro di mezzo metro rispetto a un rigore clamoroso non dato dove il Var, tempo di far vedere il primo replay, erano già ripartiti, ma all'altronde quelle sono magie particolari. Io quando si taratta di finale di Coppa Italia contro una squadra nera azzurra con lo sponsor Paramount Plus, dici, spetta un attimo, magari forse anche al Var si sono un attimino confusi, ma per fortuna sto giro è andato bene. La finale del 2021 te l'hanno rubata con scasso, sto giro per fortuna ti è andata bene e da Dio così, ma passando a questo, anche gli altri da Dio, Nicolussi Caviglia sinceramente secondo me ha fatto veramente un'ottima partita, soprattutto se pensiamo che è un ragazzo che ha fatto meno di tre partite complessivamente nell'arco della stagione e che non giocava proprio dal 10 marzo contro l'Atalanta, ha fatto un'ottima partita Nicolussi Caviglia, ottima secondo me anche l'intuizione di andare a mettere Eling Junior al posto di Filip Kostic che non è neanche subentrato, quindi da Dio va bene veramente così e anche là davanti erano oltre che ispirati avevano una cattiveria, uno spirito di sacrificio impressionante ed è proprio qui che io torno sul minchia, ma non si poteva fare anche to senza esagerare 5-6 volte nelle ultime 17 partite, però d'altronde da un lato avevi raggiunto l'obiettivo Champions League a posto, l'obiettivo era la finale di Coppa Italia stando a ciò che si dice ma invece l'hai vinta meritando, meritando e quindi da Dio, quindi veramente da Dio, c'è poco da dire, poi è ovvio magari anche l'Atalanta in qualche circostanza si è resa un po' pericolosa ma d'altronde nel senso ci mancherebbe altro che l'Atalanta non si renda pericolosa vedendo quella che solitamente è la mole di gioco e di occasioni che crea, anzi sotto certi aspetti vedendo quello che è il solito, quello che è l'ordinario per loro, oggi non hanno combinato praticamente un cazzo, c'era una muraglia allucinata, ecco oggi ho avuto veramente la percezione di una muraglia che potete ribombardare quanto volevi che tanto non la buttavi giù, per un attimino c'era riuscito Lukman, solo che per fortuna dopo lì c'era anche il palo, ogni tanto una ti può andar bene nell'arco di una partita, anche se avevo quantomeno la percezione che comunque Szczesny ci fosse, Szczesny Perin ci fosse su quel tiro, ma per il resto veramente nulla, al netto di tutto, di occasioni limpide, pulite, ne ha avute più tè di loro, ne ha avute più tè di loro, e mi ha gasato da matti anche Allegri quando all'ultimo ha deciso di sbarellare andando a insultare tutti gli arbitri e qui, come ho detto anche su Twitter, è qui che invito Allegri a farlo anche ai microfoni, a sputtanare anche i microfoni quell'inetto di Maresca, demone, mi fido di te, non mi deluda, per favore, grazie, anche perché oggi Allegri ha gasato sotto tutti i punti di vista, oggi c'è poco da dire, punto, punto. Poi, su quello che è il livello arbitrare, insomma, perché al di là di tutto va bene, per fortuna non ha rovinato una finale, ma ci mancava solamente che fosse Maresca a rovinare, minchia, veramente, una delle partite veramente valide della Juventus degli ultimi tre mesi, cazzo, se non ci pensa a noi ci pensa Maresca, dopo lì non ci stavo, dopo lì veramente non ci stavo, dopo lì andavo in battaglia a fianco Massimiliano Allegri, che deve andare uguale, lui in battaglia adesso ci deve andare uguale, perché, imbarassante, veramente imbarassante, gialli non dati nelle ripartenze dove per stare dalla parte del sicuro vai ad ammonire Vlaovic, tanto voglio, abbiamo fatto 30, abbiamo fatto la porcata, aggiungiamone un'altra, falli inesistenti dati dove poi tra l'altro metti la distanza a 7 mila chilometri, palloni nella faccia dove c'è uno morente a terra e sto cazzo che ferma il gioco, il Sior Maresca da Napoli, perché, attenzione, potrebbe esserci un pericolo, meglio non fermar nulla, va bene così, a maggior ragione, ancora più godurioso, torni a vincere a distanza di più di mille giorni e si sta un pochino meglio, eh, si sta un pochino meglio tornando a vincere, tornando ad alzare un trofeo che domani o dopo domani verrà messo all'Allian Stadium, anzi, al J Museum, pardon, si sta veramente meglio, si sta veramente meglio e proprio davvero poco da dire, bravissimi tutti per come hanno approcciato, per come hanno giocato, per come hanno fatto un ottimo lavoro sia in fase difensiva sia in fase offensiva che di transizione, come è che dicono che li bravi, eh, bravi, molto semplicemente bravi, c'è poco da dire, detto questo, ragazzuoli, nulla, si gode, vediamo se ci può essere un grande ritorno per domani, devo un pochino spulciare sul web e per il resto nulla, io vi mando un grosso abbraccio tanto per cambiare fino alla fine, forza Juve!